Sono partite questo pomeriggio intorno alle 14 le operazioni per il recupero del peschereccio Angelo Padre, semi affondato nel porto di Fano. L'imbarcazione di rientro da una battuta di pesca aveva lanciato l'allarme alla capitaneria di porto lunedì notte segnalando un'avaria. Il natante, di proprietà di un uomo del posto, probabilmente a causa di un trafilamento d'acqua che ne ha parzialmente compromesso la galleggiabilità, era stato ormeggiato alla banchina lavori per poi adagiarsi sul fondale dove è rimasto fino ad oggi. Le operazioni di recupero del peschereccio effettuate da una ditta privata sono proseguite tutto il pomeriggio coordinate dai militari della Guardia Costiera Fanese che ha subito provveduto sin da ieri a circoscrivere la fuoriuscita di carburante dalla barca disponendo delle panne ganneggianti fornite dalla protezione civile. Il gasolio fuoriuscito in mare è stato poi aspirato nel pomeriggio con una pompa. Per sollevare il natante, una unità da pesca lunga circa 20 metri e pesante 60 tonnellate, fissata con delle fasce da una squadra di sommozzatori, è stato necessario l'intervento di due gru. Il peschereccio è stato poi svuotato dall'acqua imbarcata con delle pompe elettriche. Domani mattina la barca sarà poi trainata verso lo scallo di Alaggio dove sarà messa a terra. Sarà poi affidata al cantiere per l'attività di recupero. Nei prossimi giorni partirà l'inchiesta per capire le cause e le dinamiche dell'accaduto.